Mettici l'anima che Passato il piano forte Arrivando al cuore Questo coccoruno non si pensa che la voce Ma sta modificando il tuo computer No, perché coccoruno... No, a me parlo a te Coccoruno non si pensa che Che sta passando per me nel punto che ti ha avuto Hai capito o no? E weee Nominò la mamma di Nicola Vallifuoco Perché ancora... Non si sente il casatillo del forno Si sente qualcosa? Ma qua è tutto dompagnato E' tutto inodorizzato E' tutto inodorizzato Ma sembra maschile a fuori C'è un casatillo Musica Ma questo è il francese, Gia Son Du Tragica l'ignestata Il tuo francese Ma no Ciao, era l'ufficio Ciao, ciao, guarda, per caso, non sapevo che c'era una telecamera all'interno dello studio Altola, chi va là? Arriva la francese!